Mi chiamo Patrizia, vengo da Mantova. Il mio lavoro era molto importante da fare e in Italia, a parte le cifre enormi, i materiali erano un po' diversi anche, per cui abbiamo visto prima in Croazia, i soliti posti che vai a vedere. Dopodiché più che altro è stato mio marito che si è interessato a tutta la parte tecnica della cosa. Con i problemi che ho avuto io, grossi, è andato tutto bene, è andato tutto bene e io sono veramente contenta. Ciao carissimi, vi saluto qui dalla clinica. Le nostre giornate stanno passando velocemente anche per il fatto che abbiamo molto, ma molto, lavoro da fare. I nostri pazienti continuano a venire in massa. Siamo molto contenti di vedervi qui, siamo molto contenti che ci state scegliendo e vi aspettiamo nella nostra clinica. Ciao! Mi chiamo Giovanni, vengo dall'Italia, da Matera. Mi sono trovato molto bene, bravissime, 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 pure i dottori. Abbiamo girato, abbiamo mangiato, si mangia bene, vino buono, vino buono. Questa volta abbiamo fatto una vacanza buona, 14-15 giorni. Io ho avuto sempre un problema per i denti, però da tanto tempo mi facevano passare la voglia. Poi tramite un amico, Giorgio Albanese, che lui è stato pure qua prima di me, mi ha portato qua e sono contentissimo. Mi sono trovato molto bene, abbiamo fatto tutto in poco tempo. Se eri in Italia ci volevano 10 anni, dovevo andare due anni, una volta al mese là per tirare un dente è un problema, specialmente dalle zone nostre. Ciao, sono Valentina, vengo dalla Sicilia. Sono qui, ho fatto due estrazioni di due denti. qui sono tutti molto bravi, molto gentili e lo consiglio a chiunque di venire qua. Kisinau mi è sembrata molto carina, molto pulita, confronto alle nostre zone, è molto tranquilla, molto bellina. Mi chiamo Ennio, vengo dalla Sicilia e sono venuto in questa clinica perché un amico mi ha consigliato di venire. Dice che sono molto professionale, come ho visto, la clinica è molto moderna e operano bene, veloci. Perciò io ho rimosso i denti del giudizio, dopo ho fatto un impiantino perché mi mancava un dente appunto per l'anno estratto e ora sto facendo l'apparecchetto per raddrizzare un po' i denti di sopra. Grazie, ciao. Grazie.